Ciao a tutti, come vedete fa più buio, però l'aria è più fresca, perciò colgo l'occasione per invitarvi alla nostra scuola, al nostro centro di lingua italiana, per fare le lezioni. Come vedete le bandiere sono tolte, allora le rimettiamo domani mattina e facciamo un giretto per farvi vedere come si entra nella nostra scuola. Allora, spero che lo ricordiate, però comunque potete vedere l'ingresso, la mia faccia non si vede più, forse meglio, allora venite a vederci, forse ci facciamo una spaghettata al più presto possibile, ciao!